buongiorno in questa breve lezione parliamo brevemente di http in realtà di cose che forse dovreste già in parte conoscere e facciamo per avere una base comune per cominciare poi a parlare di tutto il resto che costruiamo al di sopra di http quindi della nostra applicazione web quindi http è il protocollo che utilizziamo per comunicare con i server web come abbiamo già detto più volte che funziona con il meccanismo richiesta risposta si appoggia su tcp e funziona tramite l'invio appunto di una richiesta che contiene tutta una serie di informazioni per quanto riguarda il protocollo http versione 1 in forma testuale e adesso andiamo a vederle un pochettino più in dettaglio quindi una richiesta con una serie di informazioni addizionali dette headers e poi a cui segue una risposta da parte del server web con una prima linea di diciamo di informazione che dice come è andata la richiesta e poi tutta una serie di informazioni edizionali eventualmente un contenuto dal nostro punto di vista diciamo http lo conosciamo bene e quindi quello che può essere interessante sapere per noi è che diciamo le nuove versioni del protocollo http che stanno cominciando ad essere utilizzate diciamo nella in ambito internet quindi parliamo fondamentalmente di http 2 di fatto non introducono alcun cambiamento dal punto di vista dell'applicazione della nostra applicazione web semplicemente diciamo sono intervenute migliorie rispetto alla http versione precedente quindi versione 1.1 in quanto si supportano alcune nuove caratteristiche ma a livello di trasporto quindi il multiplexing delle richieste quindi questo significa che sostanzialmente dovremmo avere una latenza inferiore rispetto a quanto sia colpo la versione protocollo precedente diversi modi di rappresentare status code der fields e così via però sostanzialmente le stesse caratteristiche presenti a livello applicativo in http 1.1 sono presenti anche nella http 2 siccome noi ci concentriamo sugli aspetti di livello applicativo del protocollo dal nostro punto di vista di fatto i due protocolli sono intercambiabili anche se appunto con http 2 che comincia ad essere utilizzato da un certo numero di sistemi applicazioni abbiamo delle performance sostanzialmente migliori soprattutto in termini di latenza e caratteristiche di questo tipo quindi miglioramento della velocità di caricamento delle pagine e così via http come dicevamo funziona a messaggi con una struttura molto semplice una linea iniziale proprio linea di testo iniziale 0 più headers una linea vuota ed un body quindi una parte di contenuto in alcuni casi è opzionale e questo vale sia per la richiesta che per la risposta entrambe hanno questa linea iniziale entrambe hanno 0 più header e poi c'è questa linea vuota che separa dal cosiddetto body che la richiesta nel caso appunto venga inviata dal cliente al server la risposta nel verso opposto la linea iniziale della richiesta ha tre parti separati sostanzialmente da uno spazio bianco il nome del metodo get è il più comune il percorso locale sul server web della risorsa quindi il percorso che so di corrispondente file html che vorremmo caricare e la versione del protocollo che viene utilizzata qui vediamo un esempio con 1.0 semplicemente perché è il più semplice di tutti esistono tutta una serie di metodi http che possono essere utilizzati dal punto di vista della nostra applicazione ci interessano i primi cinque metodi che abbiamo scritto più in grande il metodo get head post put e delete gli altri metodi sono riservati alla gestione della connessione quindi diciamo ci interessano meno dal nostro punto di vista il metodo get del più comune ci consente di richiedere la rappresentazione della risorsa specificata quindi dovrebbe caricarci dei dati led è simile ma non include la risposta al body quindi ci serve di fatto per testare la connessione piuttosto che andare a conoscere solamente gli header per esempio per verificare se qualcosa è cambiato e se non è cambiato non richiedere quindi la parte body il post invia qualcosa alla risorsa specificata che quasi sempre cambia stato o ha degli effetti collaterali sul server per esempio memorizza dell'informazione e così via il put rimpiazza la rappresentazione corrente della risorsa a cui si riferisce e quindi dell'uri usato dopo il metodo put con il payload quindi il body che viene inviato e il delete cancella la risorsa specificata ovviamente questo non è che cancelli la pagina così come non ripiazza la pagina e così via perché in realtà dietro diciamo questi url che seguono i metodi put, delete, post eccetera ci sono in realtà degli end point del nostro server web che funzionano tramite del codice che gestiscono la logica applicativa che andrà a fare le operazioni richieste secondo la logica che ha stabilito il programmatore per quanto riguarda la risposta abbiamo anche in questo caso una linea di stato e poi tre parti separati da spazio la versione http e poi due informazioni identiche solo cambia il formato uno è un codice di stato composto da tre cifre e poi c'è una frase inglese in inglese che descrive lo status code quindi è fissa dato il codice precedente i codici si dividono in cinque categorie a seconda del primo numero del codice stesso abbiamo i codici diciamo che corrispondono al successo della richiesta 2 qualcosa, 200 qualcosa i codici di errore 4 e 5, 400 e 500 rispettivamente per un problema che si è verificato sul client quantomeno a dire del server oppure sul server, per esempio il problema di processamento interno piuttosto che la mancanza di connessione con qualcosa e così via qui vedete una lista un po' più approfondita di questi codici non esaustiva ma diciamo abbastanza ricca e trovate in grassetto i più comuni quelli che sperimentiamo più comunemente per esempio il 200 ok quando facciamo il get o il post di una risorsa e questo ha successo come molto spesso accade appunto il codice di risposta è l'ok 200 piuttosto che è anche comune avere 404 not found quando abbiamo richiesto una risorsa che non esiste magari perché abbiamo sbagliato a digitare l'url e così via è un po' meno comune interno al server error o comunque altri diciamo varianti che sono problemi che si verificano sul server che possono capitare per esempio che so qualche cosa che non è disponibile che so non c'è la collegamento al database server eccetera quindi il server ci risponde che questo è un problema del server e non del client e quindi appunto ci dice qualcosa col 500 invece 404 not found è diciamo un errore nella richiesta del client mi ha chiesto qualcosa che non esiste e così via la serie 300 si focalizza sulla redirezione e quindi ci dice che la risorsa c'è ma si trova da un'altra parte eventualmente indedicandoci dove è da andare a cercare gli header sono informazioni riguardo la richiesta risposta gli header sostanzialmente possono anche essere informazioni riguardo a quanto viene spedito nella parte body della richiesta o della risposta ogni header occupa una sola linea eventualmente andando a capo ma linea è definita nel senso che è terminato dal carattere di a capo ogni header ha un suo nome, due punti col suo valore e tanto per darvi un'idea l'http 1.1 definisce ben 46 headers di cui uno solo obbligatorio perché è il nome dell'host a cui vogliamo collegarci perché potrebbero esserci più host sullo stesso server web però in generale vengono usati degli header opzionali divisi in categorie e molto spesso il browser per esempio invia per conto suo già tutta una serie di header per esempio indicandogli la sua identità dicendo che quale programma è che sono safari, chrome, firefox eccetera che è un numero di versione eccetera tutta una serie di informazioni queste sono gestite in maniera diciamo automatica dal browser a noi le categorie di header che interessano di più sono i cookie, course che vedremo più avanti l'informazione relativa al body che è particolarmente importante e che approfondiamo tra un istante e redirect per seguire eventuali redirezioni ad altri url chiaramente trovate in rete sempre tutti i dettagli se siete più curiosi quindi questo discorso vale sia per le richieste che per le risposte e andando un po' a approfondire gli header di interesse per il body che sono importanti da saper utilizzare perché li dovremo utilizzare nelle nostre applicazioni web sostanzialmente dobbiamo impratichirci almeno con il content type che indica il tipo di media della risorsa che viene o spedita al server oppure inviata indietro come risposta dal server stesso quindi per esempio il browser per capire se sta ricevendo un'immagine piuttosto che del codice html piuttosto che del testo piuttosto che del json e così via va a vedere l'header content type cerca questo header content type che solitamente è presente ed è inserito dal server nella risposta e quindi a differenza di quello che fa il vostro sistema operativo quando deve andare a cercare come gestire un certo file e si basa sull'estensione in questo meccanismo di http è previsto questo header content type poi chiaramente il browser se non è presente l'header content type cosa da sconsigliabile avrà su qualche meccanismo di default per decidere come gestire le informazioni che riceve però questo è il meccanismo previsto dal protocollo http quindi per esempio quando facciamo la get di una pagina http avremo una risposta che contiene un header content type text html char set utf hot per dire che c'è una certa codifica dei caratteri e quindi tutti i caratteri particolari che sono caratteri accentati, caratteri un po' più strani verranno rappresentati correttamente conoscendo la codifica utilizzata questo discorso vale anche per le richieste quindi nel momento in cui inviamo una richiesta ci sono dei content type specifici in particolare per i form che non approfondiamo in questa sede sono utilizzati e codificati in maniera automatica dal browser nel momento in cui lasciamo fare la sottomissione al browser senza intervenire tramite il nostro codice e quindi sono interpretati questi sostanzialmente dal server che quindi legge gli header della richiesta e capisce come andare a decodificare i parametri della richiesta tra l'altro è possibile che siano presenti ulteriori header menzioniamo il content encoding nel senso che è possibile che il contenuto del body sia compresso con un qualche algoritmo questo lo diciamo soprattutto perché nel momento in cui provate a catturare una sessione HTTP quindi non cifrata in chiaro con un analizzatore di rete magari non vi raccapezzate sul body perché vedete tutti i simboli strani magari semplicemente compressa ma vedrete nella parte iniziale content encoding Gzip o qualcosa di simile che è stato risposto dal server questi sono esempi di content type questi sono standardizzati sono i cosiddetti tipi MIME M-I-M-E e i più comuni come abbiamo già detto sono il text HTML per quanto riguarda le nostre applicazioni e l'application JSON che useremo diffusamente per la rappresentazione di dati che viaggiano dal client al server e viceversa e poi ovviamente ci sono tutte le informazioni i dati di tipo binario che sono le immagini piuttosto che altri tipi di dati questi sono i metodi HTTP che ci interessano quei 5 di cui dicevamo prima e notate la differenza in termini delle colonne che andiamo a descrivere ora i get e l'head non hanno un body quindi quando inviamo delle richieste get o add ci sarà solo la linea iniziale che è sempre presente e eventuali header ovviamente il get prevede una risposta con un body cioè il contenuto che abbiamo richiesto mentre invece l'head no perché dicevamo che è di fatto un metodo per testare la connessione ma anche per farsi dire gli header che sarebbero spediti nella risposta che sono sostanzialmente gli header che magari consentono al browser di capire se la risorsa è cambiata oppure no per esempio guardando l'header di ultima modifica e eventualmente risparmiare band il metodo post ha un body perché vuole spedire dei dati è il suo scopo dati che derivano dal form da un form presente nella pagina web quindi sono quei dati diciamo collezionati dai controlli del form in maniera automatica dal browser oppure inseriti dall'applicazione tramite javascript o altro meccanismo ha un body come risposta sì di solito che è il risultato dell'operazione quindi descrive nel dettaglio il risultato dell'operazione piuttosto che l'eventuale errore che sia verificato e così via il put ha un body che contiene ovviamente i dati che vogliamo trasmettere perché va a diciamo modificare una risorsa su serve anche il put ha una risposta che è diciamo il risultato dell'operazione o comunque quello che prevede lo script il codice di elaborazione della put su serve metodo delete può invece avere un body quindi non è detto che sia obbligatorio perché se diciamo non è necessario specificare alcun dato verrà inviato senza body cosa significa che il metodo è idempotente significa che se viene eseguito più volte non deve cambiare nulla sul server quindi lo stato dell'applicazione non deve cambiare questo è abbastanza naturale per il get nel senso che dovrebbe essere un metodo che richiede solamente la risorsa ovviamente anche per l'head che non porta alcuna informazione mentre invece non lo è per il post perché tipicamente con un post inviamo dei dati un form che tipicamente vanno scritti e immagazzinati da qualche parte e se diciamo lo facciamo nuovamente aggiungiamo un secondo dato un terzo dato e così via la put invece la semantica della put è idempotente nel senso che se facciamo più di una put lo facciamo sullo stesso elemento sullo stesso oggetto sullo stessa risorsa lato server e quindi farla più volte non dovrebbe avere effetto collaterale nel senso che non dovrebbe crearci due, tre, quattro oggetti o quattro elementi sul server perché andiamo a identificare che cosa facciamo su una specifica risorsa e la stessa cosa vale per la delete nel senso che cancellare una cosa che non esiste sostanzialmente non avrà un effetto collaterale se già state inviate una volta i primi due anzi i primi get e post sono cioè i primi due perché l'head sostanzialmente non si usa quasi mai e i primi due nell'applicazione web i primi due get e post sono i metodi che possiamo usare nei form quindi nel tag form ricordate che c'è un attributo un method e possiamo mettere sostanzialmente get o post e i dati del form verranno codificati in una maniera piuttosto che in un'altra inseriti come un certo content type inviati al server nel caso del get non essendoci il body sull'url quindi faranno parte dell'url e nel caso del post invece saranno nel body della richiesta http tutti gli altri metodi non sono diciamo utilizzabili con i form ma per noi non è un problema perché noi programmiamo in javascript e potremmo potremmo andare ad utilizzarli tramite l'interfaccia l'API fornita dal browser a javascript abbiamo quindi terminato questa breve discussione di http e ci possiamo quindi muovere sul prossimo passo che è quello di creare un nostro server web che possiamo andare ad utilizzare per inserire la logica della nostra applicazione per inserire per inserire per inserire